300.000 euro per completare la ristrutturazione dell'ex biblioteca provinciale di Chieti de Meis, crollata nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2005. E' quanto ha promesso al Comitato Cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ieri ha effettuato un sopralluogo all'interno del cantiere. Qui si lavora dal 2015 sul primo lotto delle opere ormai quasi concluso. Servono però altri 300.000 euro, come hanno confermato il progettista e il titolare della ditta che si sta occupando dei lavori. Il presidente ha garantito che i fondi verranno stanziati e reperiti all'interno del bilancio. Vedere questo cantiere che è arrivato al suo 88-90% e gli manca pochissimo per essere messo in esercizio è chiaro che è uno stimolo alla finanza pubblica regionale, alle economie in giacenza nei tanti cantieri che producono economia per fare in modo che quello che manca, e mi si dice, 300.000 euro, così si completerà questa struttura che è un pomo di educazione della città, della provincia di Chieti e forse della Regione Abruzzo. La Biblioteca de Meis nasce con una donazione di 12.000 testi all'inizio ad opera della famiglia de Sterlich. È straordinario quello che tornerà a vivere qui. Un impegno della provincia di rigenerare questo luogo, che è stato un luogo di aggregazione e di cultura attraverso un intervento importante che quasi al termine mancano questi soldi, 300.000 euro, per attrezzare le aule, per terminare quindi la rigenerazione, l'informatizzazione di questo spazio che sarà sicuramente il cuore pulsante di Chieti, grazie anche a un'attività importante che l'associazione guidata da Giampiero Perrotti ha saputo coinvolgere, soprattutto i ragazzi che noi vediamo qui, che sia uno spazio veramente dove si incontri la cultura e le nuove generazioni possono avere spazio per le proprie progettualità.